Mi chiamo Lorenzo Pradella e da tre anni sono l'amministratore delegato di Greenbone. Nel 2006 è iniziata la sfida per trovare un materiale per la ricostruzione di grandi porzioni osse. Greenbone è un nuovo materiale per rigenerare le ossa di un paziente danneggiate da traumi o tumori e per ridargli la possibilità di continuare normalmente la propria vita. Un nuovo materiale deriva dalla trasformazione chimica del bambù, che ha una struttura interna estremamente simile a quella delle nostre ossa. Greenbone ha la stessa composizione dell'osso umano ed ha confermato di essere il miglior materiale per rigenerazione ossea. Greenbone ha la stessa composizione dell'osso umano